Siamo con il capitano dell'Empoli di questa sera con Luca Antonelli che venerdice aveva portato al playoff e l'Empoli ha provato a rimanerci in ogni modo con montare la gara di stasera veramente difficile. Sì abbiamo messo tutto, abbiamo messo cuore, anima purtroppo non è bastato per riuscire con un pareggio fa male. Fa male perché abbiamo perso tanti punti durante l'anno, magari anche con le squadre piccole che potevano permetterci di essere in classifica meglio e magari passare nel colpareggio. Adesso passerà la delusione, domani penseremo già alla stagione prossima che dovremo essere protagonisti. Non ti non negarlo gli episodi stasera, l'Empoli era stata brava a girare il primo a proprio favore, poi due rigori incidono sul risultato. Sì, dispiace anche per i ragazzi che l'hanno sbagliato perché so che ci tenevano tantissimo, dispiace per tutti. E oggi però alla squadra non si può dire assolutamente niente, anzi fai i complimenti perché è stata in gara fino all'ultimo secondo e sicuramente avremmo meritato il passaggio del turno. Come hai detto poco fa, domani la delusione, domani l'altra è già stagione 2021 dove ci sarà ancora più voglia di rifarsi e di essere protagonisti. Sì, la delusione durerà per un po' perché volevamo un finale diverso, però dobbiamo essere bravi tutti, noi giocatori, società così, a ripartire subito e immediatamente per tornare protagonisti. Sì, la delusione.